Cioè non ho fatto niente, ride da solo Cosa? Non l'ho visto Buongiorno gente bentornati nel canale, qua è Dani oggi Siamo in un nuovo video, bello Allora, visto che ultimamente sto avendo tanti problemi Mi sono arrivati problemi, praticamente ci sono dei problemi con il microfono Del, 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 questo signorino qua si è rotto Quindi per ora dovrete assorbirvi solamente Dovrete guardare solamente, no Ci sono solo video su questo genere Perché video su Minecraft probabilmente ne porterò Ma sempre con l'audio del telefono E video con altre persone per ora non ce ne saranno Visto che appunto senza microfono non posso andare da nessuna parte Quindi devo trovare una soluzione prima possibile E quindi, boh, per ora ci sono questi video qua Oggi siamo con il mio compare qui vicino Perché, signori, lo vedete anche dal titolo Siamo ancora in inverno, in Turia, sì E noi facciamo la prova a non ridere con l'acqua Perché è una roba che voglio fare davvero un sacco di tempo Però questo è stato l'unico momento nel quale Potevo fare appunto questa sfida Adesso abbiamo spostato tipo il suo letto Infatti lo vedete questo qui rosso Abbiamo spostato che era orizzontale come il mio dietro L'abbiamo messo in verticale Insomma abbiamo fatto, ho fatto un bel casino Comunque spero che l'audio non faccia schifo Perché questo posso fare Proverò a parlare con una voce un po' più alta Perché questo posso fare Mi dispiace però insomma Spero vi possa andare bene ugualmente Quindi io direi che possiamo iniziare Siamo anche muniti di bacinella E sotto c'è tipo un bordello Insomma, magari forse se mi ricordo Se riesco vi metterò una foto Che abbiamo messo il telo che si mette Quando si esce dalla doccia Così insomma Tante belle cose Cosa vuoi? Lo sai l'arrivo che gli stai già mettendo a ridere adesso Va bene Comunque devi parlare con una voce un po' più alta Perché se no non ti sentono Tipo così? Sì Comunque Io direi che possiamo partire Abbiamo una bottiglia in due Perché non ne avevamo altre Iniziamo bene Iniziamo bene La bacinella Iniziamo bene Iniziamo bene Iniziamo bene C'è la fai Iniziamo bene Iniziamo bene Iniziamo bene Iniziamo bene Iniziamo bene Iniziamo bene Dio Santo mi stavo suffocando Cambiamo video perché questo qui non so era abbastanza palloso Sono quattro Ci sono alcune parti che hanno fatto abbastanza ridere Allora metto questo qui Ma te l'hai già visto? Non vuole L'ho già visto però comunque fa abbastanza ridere Quindi Allora metto Allora Allora Non ce la facevo più Allora 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 Allora